e siamo di nuovo qui a parlare di xenofiction cioè come scrivere qualcosa usando un punto di vista che non sia umano e in particolare che sia di un animale sono francesca damato e scrivo di draghi è appena uscito il mio libro su le leggende le storie dei draghi d'italia in cui trovate tutto il materiale sul nord italia che mettereste settimane se non mesi a trovare tutto condensato in racconti pronti per essere riscritti documentati nelle note trovate tutto ciò che vi serve usateli per scrivere la vostra xenofiction e oggi abbiamo qui benedetta troni che da naturalista ci aiuterà a inserire i sensi degli animali nel punto di vista di uno di loro e soprattutto a capire come emozionare i lettori usando il punto di vista più diverso e più alieno tra quelli disponibili sulla terra non arriveremo agli estremi di parlare dal punto di vista di un minerale o di un fungo ma ci stiamo lavorando un giorno parliamo anche di xenofiction sulle piante non ne dubito ah su quello mi sto già preparando questa è susanne simard è l'artizia che si è inventata il world wood web cioè la rete di relazioni tra gli alberi che gli alberi usano per connettersi gli uni agli altri e per comunicare con tutta la foresta e parlano in modo chimico e vi assicuro che appena ne avremo capito un pochino di più un racconto o un libro sugli alberi che parlano in modo chimico tra di loro riconoscendo i propri simili e superando i loro ostacoli giuro che lo scrivo io non vedo l'ora di leggerlo siamo lì bene cominciamo una volta che abbiamo scelto la nostra specie protagonista la primissima cosa da fare prima ancora di progettare la trama è definire qual è il suo hand belt cioè ricostruire la sua specie la sua sfera percettiva e per farlo dobbiamo chiederci quali sono i sensi più importanti per la vita di quell'animale per esempio se parliamo di un carnivoro l'olfatto è sicuramente uno dei sensi più importanti perché altrimenti come le trova le prede come segue le tracce odorose il gusto invece sarà meno importante perché per un carnivoro non è che gliene freghi tanto di sapere il gusto della carne di un cervo di quello di un cinghiale casomai gli importerà sapere se quella carne è buona o se è troppo marcia ma questo si capisce dall'olfatto quindi già questo è un discrimine abbastanza importante e poi una volta fatto questo bisogna chiederci in base a quelli che sono i suoi sensi più importanti quali sono i paesaggi sensoriali che percepisce noi abbiamo portato un libro secondo me molto bello che è uscito di recente per Fertrinelli che è I suoni segreti della natura di Karen Bacher il quale ci introduce al concetto di soundscape ne volevi parlare un po' te Francesca di soundscape? soundscape sì, il paesaggio sonoro è quello che ci avvolge e che ci dà informazioni che possono essere decodificate conoscendo la sorgente di questi rumori se il rumore per noi è importante allora riusciamo a separare i singoli rumori come noi riusciamo quando siamo in un bar a separare le voci delle persone che conosciamo e con cui vogliamo avere una conversazione dal rumore di fondo e questi soundscape sono abbastanza intuitivi perché riusciamo a ricondurli a un'esperienza che gli umani hanno già fatto ma sono anche curiosi uno dei pregiudizi che avevamo sui paesaggi sonori era ad esempio che in fondo al mare ci fosse un gran bel silenzio zerissimo gente in fondo al mare ci sono dei concerti che cambiano con il passare del tempo, della giornata e delle stagioni una delle cose che ho inserito uno dei miei racconti è il concerto di mezzanotte dei ricci marini il riccio marino bruca raschiando e facendo un rumore coi suoi dentini e quando questi ricci marini escono a pascolare a mezzanotte l'oceano risuona dello stridio dei loro denti sulle superfici che stanno raschiando e tutti gli animali marini le conoscono queste cose e quindi il suono che senti come noi sentiamo certi uccellini al mattino e certi la sera anche nel mare cambiano queste cose vai Benedetta volevo dire che questo pregiudizio legato al fatto che in fondo all'oceano ci fosse silenzio è legato al fatto che molti di questi suoni purtroppo sono fuori dalla nostra soglia di udibilità spesso sono suoni a bassa frequenza, infrasuoni oppure in altri casi ad alta frequenza e allora parliamo di ultrasuoni e questo è sempre il concetto di antropocentrismo cioè siccome noi non percepiamo nessun suono allora c'è silenzio ma per un animale non è assolutamente silenzio per un animale questo appunto il suono di un fondale gli dà un'indicazione di dov'è tipo se sente brucai ricci vuol dire che qui allora c'è una prateria di alghe, di piante marine eccetera oppure se sente magari i suoni dei piccoli coralli vuol dire ah qui c'è una barriera corallina anche se non la vede comunque se ne accorge e questi suoni sono usati dagli animali in modi che noi stiamo solamente adesso cominciando a scoprire avete presente quando si schiudono le uova delle tartarughe e queste piccole bestiole escono dalla sabbia e puntano verso il mare noi abbiamo sempre visto la scena dalla spiaggia e guardata la scena dalla spiaggia ma se noi avessimo messo un idrofono cioè un sensore di suoni in acqua avremmo sentito le madri delle tartarughe che chiamano i loro cuccioli e le piccole tartarughe che le sentono e che si dirigono verso le acque profonde guidate da un suono un suono che abbiamo scoperto solo adesso con strumenti che ci permettono di ampliare il range di fenomeni percepiti che altrimenti noi con le nostre capacità umane avremmo ignorato perché non erano registrabili da noi e questo ci aiuta adesso anche a capire che quando passiamo col motore di una barca noi creiamo intorno a questo fenomeno un'onda di disturbo che impedisce ai pesci di parlare tra loro alle balene di comunicare a centinaia di chilometri di distanza le balene si è scoperto che parlano perché andavamo a caccia di sottomarini perché l'unico motivo per cui abbiamo cominciato ad ascoltare il fondo degli oceani è per beccare i sottomarini nemici e c'erano dei suoni che davano fastidio non si capiva che cosa fossero e quando finalmente queste registrazioni sono state messe a disposizione degli studiosi si è capito che le balene si parlano a centinaia di chilometri di distanza perché l'acqua trasmette i suoni più di quello che faccia l'aria noi non possiamo pensare di urlare e farci sentire a distanza di più di qualche centinaio di metri ma le balene ce la fanno e si raccontano storie che girano gli oceani sì, poi tra l'altro esiste nell'oceano un particolare come dire, un punto in cui a una certa profondità le condizioni di pressione, di temperatura consentono di massimizzare la capacità di propagazione del suono questo canale si chiama SOFAR che è l'abbreviazione di un acronimo inglese che adesso non ricordo ma essenzialmente vuol dire canale che massimizza le prestazioni del suono e questo appunto è essenzialmente come una linea telefonica per le balene anche se sono a chilometri e chilometri di distanza riescono a sentirsi a vicenda purtroppo però con il traffico marittimo le attività per esempio di ricerca del petrolio nei fondali eccetera eccetera questo paesaggio sonoro viene pesantemente inquinato e non solo dà fastidio alle balene ma anche a specie di cui noi non avremmo sospettato per esempio i pesci si dice sempre muto come un pesce perché non emettono suoni che sentiamo ma anche loro emettono dei suoni per comunicare tra di loro e l'esposizione a un rumore così forte come può essere il passaggio di una nave mercantile o di un cannone ad aria usato per mappare i fondali per loro è una grande fonte di stress è una sovrastimolazione sensoriale a lungo termine che può avere delle conseguenze anche a livello di popolazione e questo appunto è un estremo della stimolazione sensoriale poi ce n'è un altro che è quella cui accendevamo prima sugli animali in cattività gli animali in cattività vi faccio un esempio preso da un film avete presente Newt Scamander in Animali Fantastici quando si entra nella sua valigia e lui ha questi ecosistemi portatili che lui è uno scienziato molto avanti per il suo tempo ma la storia è ambientata nel 1926 quindi prima della seconda guerra mondiale e lui per far sentire a casa i suoi animali lui ricostruisce con degli teloni dipinti i paesaggi degli ambienti da cui vengono se vieni da un deserto torrido ti disegno le rocce se vieni da una giungla ti disegno gli alberi e Newt Scamander fa questo per cercare di far sentire a casa le sue bestie nel miglior modo disponibile per la gente di quel periodo noi oggi sappiamo che la vista non è l'unico senso dominante per tutti lo è per noi e per noi magari avere uno sfondo potrebbe farci stare meglio ma adesso sappiamo che gli animali hanno bisogno della stessa cosa che offre lo sfondo ma anche sugli altri sensi ha bisogno degli odori abbiamo bisogno dei suoni abbiamo bisogno nell'acqua di assaggiare l'acqua e quest'acqua deve avere dei sapori che cambiano se io sono un pesce e seguo chimicamente l'odore di una preda e l'acqua della mia vasca ha lo stesso odore giorno dopo giorno anno dopo anno senza cambiare con le stagioni senza cambiare per niente è come se io per tutta la vita mangiassi sempre la stessa brodaglia pasto dopo pasto senza mai cambiare quindi mettersi nei panni degli altri e capire quindi che quali sensi soddisfare quale fame sensoriale uno prova e per cosa soffre ci aiuta a creare delle contromisure per il problema dell'inquinamento delle acque prima di questi rumori che si diffondono adesso si stanno provando tecnologie con muri di bolle che isolano certe sorgenti sonore in modo che quel disturbo possa non propagarsi e più studiamo come percepiscono il mondo gli animali più riusciamo anche a migliorare la loro vita essere quindi anche sovrastimolati o sottostimolati è un casino è un casino e va pensato e la xenofiction ci aiuta proprio a entrare in questi punti di vista e quindi a renderci conto di cosa si può fare tra l'altro la questione della fame sensoriale non ce l'hanno solo gli animali ce l'hanno anche gli astronauti o per esempio chi vive nei sottomarini chi vive in ambienti chiusi in cui è sottoposta appunto a una quantità di stimoli limitati che coinvolgono spesso un solo senso cioè la vista se è una stazione spaziale quante cose vuoi annusare quante cose vuoi sentire e invece appunto alcuni degli accorgimenti per il benessere psicologico degli stessi astronauti riguardano proprio l'esposizione a stimoli uditivi sonori gustativi si cerca di dargli una dieta il più possibile varia perché così hanno accesso a più sapori si consiglia molto di ascoltare musica perché appunto siamo senza il sottofondo di suoni a cui il nostro cervello è abituato e quindi appunto la musica può essere un buono sfogo e anche appunto non so se viene fatta qualcosa con gli odori però sarebbe interessante perché è un ambiente chiuso senza circolazione dell'aria se ti rifiuti un odore poi non lo togli più perché non puoi aprire la finestra eh sì ma sentivo che tipo in un report della NASA che riguardava però una stazione sottomarina gli acconauti erano diventati più sensibili ai cattivi odori cioè se uno aveva l'ascella un po' sudata se ne accorgevano subito e questo gli dava molto fastidio perché non sentivano altri odori proprio quindi il loro naso dopo un po' si abituava a sentire soprattutto le cose negative tipo anche se facevi una puzzetta era finita ti odiavano tutti eh beh sì se sei chiuso sì va bene quindi se noi volessimo scrivere di queste cose cosa di cosa dobbiamo tener conto questa che vedete è una piramide cioè una una gerarchia di bisogni di Maslow Maslow non la mise veramente in piramide lui ne parlò in modo più meno grafico ma il suo concetto principale fu capire che tutti gli organismi viventi lui si occupava di persone ma la possiamo trasporre anche per gli animali hanno dei bisogni e che soddisfano questi bisogni cercando nel loro ambiente e facendo delle azioni nel loro ambiente i bisogni base sono quelli alla base della piramide quelli per cui veramente hai bisogno sei in pericolo di vita se non li soddisfi sono respirare e respirare devi respirare se non ci riesci muori subito e le cose che ti possono essere tolte e che ti fanno morire rapidamente sono l'acqua noi che viviamo all'asciutto abbiamo bisogno ogni tanto di mettere dell'acqua e di dare dell'acqua alle nostre cellule che comunque continuano a vivere in un ambiente acquoso e senza acqua si muore in pochissimo tempo cibo anche lì se non mangiamo tempo un pochino più lungo rispetto all'acqua ma si muore e abbiamo bisogno di dormire e di liberarci delle scorie perché se venissimo tappati esploderemmo non è che esplodiamo però l'accumulo di scorie al nostro interno ci avvelenerebbe quando abbiamo identificato nel nostro personaggio uno di questi bisogni prendiamone uno a caso Benedetta suggerisci uno dei bisogni primari fisiologici l'acqua l'acqua siamo quindi in un ambiente asciutto stiamo cercando l'acqua dobbiamo capire quale senso usare per andare a cercare l'acqua l'acqua può essere ascoltata se è acqua corrente l'acqua corrente fa un suono e il suono dell'acqua quindi ci deve guidare verso la soddisfazione di questo bisogno sono guidati dal suono dell'acqua ad esempio i castori i castori hanno dei riflessi se l'acqua scorre in modo troppo veloce loro iniziano a costruire una diga e la rallentano perché il suono dell'acqua che scorre è fastidioso cioè lo spinge all'azione è un problema che spinge all'azione se l'acqua ti serve per ad esempio se sei la radice di una pianta e hai bisogno dell'acqua di un'acqua la devi sentire in un modo chimico la devi percepire in base ai gradienti di concentrazione di varie sostanze gradienti di umidità e quindi immergi i tuoi sensori le tue radici nello spazio e dove senti che lì ti stai avvicinando alla soddisfazione di quel bisogno allora lì convogli le tue risorse e fai crescere la radice in quella direzione una volta che i bisogni di base sono soddisfatti passi ad avere dei bisogni che possono migliorare la tua esistenza che sono i bisogni di sicurezza ad esempio hai bisogno di stare bene hai bisogno che la tua famiglia sia al sicuro e man mano che soddisfi questi puoi dedicarti a cose superiori il bisogno di appartenenza e il bisogno ad esempio di far parte di un gruppo se sei un animale sociale hai bisogno di trovare altri come te e di essere accettato da altri come te comportandoti o portando il tuo contributo al gruppo le offerte rituali di cibo il grooming cioè il prendersi cura della pelliccia degli altri animali nei mammiferi o gli uccelli quando portano dei legnetti per costruire il nido fanno capire alla compagna che possono essere utili e che contribuiranno a tutto il lavoro che ci sarà da fare dopo nell'accudimento dei cuccioli e anche questo è un bisogno e un bisogno vuol dire che se non lo fai ti senti a disagio e se questo se il gruppo ti rifiuta il dolore emotivo che provi è forte come un dolore fisico quindi tutte queste sensazioni interne le abbiamo in comune con gli umani e possiamo usarle il senso che usiamo per trovare la soluzione a questo bisogno dipende dall'ambiente in cui siamo messi se siamo nel deserto e l'acqua scorre seguiremo il suono dell'acqua se siamo in una foresta pluviale densa di umidità ci sarà uno sgocciolio d'acqua praticamente ovunque e in quel caso il suono dell'acqua non sarà un suono così interessante perché quello è una cosa facilmente disponibile di che cosa avremo bisogno in una foresta pluviale magari di emettere dei segnali che possano essere interpretati dal gruppo o dal partner con cui vogliamo avere una relazione e allora in quel caso magari una danza se siamo di giorno con un piumaggio che dia manifestazione del nostro stato di salute quello segnala il nostro stato fisiologico cioè quanto bene abbiamo mangiato quanto sono buoni i nostri geni per trasformare il cibo in come colorate in un corpo che funziona bene e verremo selezionati in base a quanto siamo coordinati armoniosi quanto riusciamo a farci vedere o a conquistare una posizione di rilievo tra quelle disponibili quindi se l'ambiente è rumoroso magari useremo la vista per un segnale visivo per comunicare se viviamo in una colonia di pipistrelli ed è notte ed è buio la vista sarà praticamente inutile quindi impiegare delle risorse per creare un piumaggio o una pelliccia colorata è abbastanza inutile ci potremmo concentrare sui suoni o sugli odori se stiamo nuotando in acque fangose allora magari saremo un pesce con dei bargili con dei baffi con delle propaggini capaci di assaggiare l'acqua e il fango e di individuare delle tracce chimiche che ci portino lì dove vogliamo andare oppure dei pesci con un campo elettrico perché appunto esiste un senso chiamato l'elettrorecessione che è prodotto da alcuni pesci che appunto vivono in acque torbide l'elettrorecessione consente appunto di mappare il fondale in base a come il campo elettrico prodotto da questi animali tramite un organo particolare che è detto appunto organo elettrico comunque in base a come questo campo interagisce con l'ambiente attorno loro riescono a capire se ci sono delle rocce o comunque degli altri elementi inorganici se ci sono delle prede o anche dei partner e in questo caso addirittura il campo elettrico è l'equivalente di un piumaggio colorato cioè in base a quanto è forte a quanto è bravo l'animale a modulare il suo campo elettrico la femmina capisce che quello è un potenziale partner oppure altri maschi capiscono che quello magari è meglio non andare a romperti le scatole esatto quindi quello che dovete chiedervi è com'è fatto l'ambiente in cui si muove il vostro animale che cosa sta cercando questo animale e qual è il canale tra quelli a sua disposizione per scambiare per scambiare questo tipo di messaggi e ovviamente ogni specie si sarà specializzata avrà sviluppato il canale che è più adatto a rispondere a questi bisogni quello che è più in sintonia con la propria fisiologia e ad esempio se non ho ossa dure io se se ecco localizzo una medusa non la vedo quasi perché ha la stessa consistenza dell'acqua invece vedo il mio panorama sono degli scheletri che si muovono vedrò bene i pesci ossei vedrò bene i sub che nuotano con uno scheletro ma i squali forse li vedo un po' sfocati perché loro hanno lo scheletro di cartilagine esattamente e quindi il mondo cambia a seconda di cosa sto cercando di che senso uso e di che ambiente in che ambiente è immerso lo stimolo che sto cercando veniamo adesso a un altro punto particolarmente importante per quanto riguarda l'applicazione della scrittura rasparente all'axenofiction cioè per descrivere i paesaggi sensoriali e l'ambiente in cui si muove il nostro animale abbiamo capito che è necessario avere un po' di nozioni di botanica geologia e di chimica perché devo sapere che piante ci sono se queste piante emettono degli odori particolari se anche le rocce appunto hanno dei colori delle come dire degli odori particolari per esempio se sono rocce ricche di zolfo per esempio e poi appunto un po' di chimica però come ne rendiamo queste nozioni dal punto di vista di un animale che chiaramente non può studiare sui manuali ci sono due strade possibili una è quella di utilizzare parole indentate per esempio nella collina dei conigli c'è una parola in conigliese che è embliri e che designa l'odore di urina di volpe ora nella realtà questo odore sarà dato da una molecola che avrà il suo nome scientifico e nomenclatura che però chiaramente un coniglio non la può sapere e quindi dice embliri c'è una parola inventata un'altra strategia invece è quella di utilizzare dei termini più semplici però che riassumono bene il significato per esempio se voglio descrivere una foglia posso dire foglia lobata pinnata palmata lanciolata lo posso dire dipende quell'animale sa cos'è una lancia è in un ambiente che gli consente di capire cos'è una lancia se la risposta è no allora non posso usare questa parola e qui tra l'altro poi se parliamo invece di cose di stimoli olfattivi si può attingere ai sommelier dei profumi che hanno un lessico molto più preciso per descrivere i singoli odori emanati magari da una pianta gli odori di alcune essenze quindi secondo me varrebbe la pena di approfondire anche questo campo per la descrizione dei colori se ci fate caso nel nostro vocabolario abbiamo dei nomi per i colori il rosso è rosso non è color fragola mentre negli odori gli odori hanno vengono abbinati alla cosa più famosa che ha quell'odore essenza di vaniglia profumo di violetta i nomi delle molecole non fanno parte del linguaggio comune sono specifici ma sono talmente alieni che neanche i vostri lettori le comprenderebbero e per i suoni la stessa cosa non abbiamo abbiamo i nomi delle note ma non potete descrivere un suono scrivendo la musica come se fosse uno spartito musicale in questi casi io penso che arrivare ad una similitudine ad escriverlo facendo riferimento a qualcosa a cui assomiglia è la strada migliore sì questo è vero è un discorso è un campo un po' complicato però qui tra l'altro volevo citare un esempio di xenofiction non particolarmente brillante dal punto di vista di un drago per far capire quanto è importante la scelta del lessico allora questo drago che ci viene detto è capace di assumere forma umana utilizza però dei termini che io non avrei usato cioè non gli avrei messo in bocca queste parole per esempio se vuole dire seni umani per dire che quell'umana è una femmina lui dice ghiandole mammarie allora tenendo conto che siamo anche in un contesto pseudo medievale ghiando la mammaria stona tantissimo perché ghiando la mammaria lo dici se sei a fare la mammografia se sei a fare il path test un termine un po' più bestiale poteva essere mammelle diciamo non era necessario nemmeno essere troppo volgai oppure tipo un'altra cosa di lessico era la scelta di parole associate però a concetti umani per esempio lui dice quando il sole baciò l'orizzonte oppure un'altra volta le parole mi ballavano davanti agli occhi e la mia domanda era i draghi baciano e ballano e lo fanno esattamente allo stesso modo degli umani o quel gesto per loro ha un significato diverso e viene eseguiti in un modo diverso l'autore non è stato particolarmente brillante nel rispondere a queste domande perché il drago già dal momento zero in cui è costretto nella forma umana sa già perfettamente come deve comportarsi sa che deve camminare eretto su due zampe mentre non crede lo faccia nella sua forma draconica sa addirittura che deve trovarsi un lavoro e qui veramente io lì mi chiedevo ma scusa ma nel tuo mondo i draghi cosa hanno la partita IVA fanno 7.30 cioè fanno tutto esattamente allo stesso modo degli umani spieghiamo un attimo introducimi dei concetti un po' più draconici una situazione di questo tipo poteva essere cioè una situazione un po' più draconica poteva essere che lui gli veniva da camminare a quattro zampe perché normalmente lui si muove in quel modo oppure tipo per presentarsi gli veniva ad annusare le altre persone questo causava poi una serie di gaff di scontri insomma era un'occasione di world building che secondo me non è stata sfruttata la scelta poi della persona narrante allora abbiamo detto grazie Francesca che per rendere comprensibili le sensazioni di un animale è fondamentale associarsi associarci a una connessione emotiva cioè quell'odore quel rumore che significato ha per l'animale è una cosa buona cattiva che significati ci associa e perché le emozioni essenzialmente sono un terreno comune tra noi e gli animali e quale persona scegliamo poi dipende anche qui dall'effetto che si vuole ottenere perché la prima e la seconda persona sono più immediate cioè nel primo caso l'animale si presenta dice io sono una volpe io sono un cavallo eccetera eccetera nel secondo caso è la voce fuori campo comunque chi sta narrando che dice al lettore che cos'è tipo tu sei un dinosauro tu sei una volpe eccetera però questo pone il problema che poi alla fine devi rispondere alla domanda cioè chi è che sta narrando al protagonista che sarei anche io e perché sta narrando come mai c'è questa c'è questo tipo di di persona utilizzata non è facilissimo ci sono pochi libri narrati da in seconda persona uno di questi è La Torre del Corvo che l'ha letto Francesca io me lo devo recuperare La Torre del Corvo è fantastico Anne Lecchi è una scrittrice che è cresciuta nella fantascienza che adesso si sta spostando nel fantasy e il protagonista è un sasso giuro un sasso ed è fantastico ed è una pietra è una pietra magica ovviamente è una pietra senziente è ovviamente un dio insomma può fare delle cose ma vede il mondo dal punto di vista di un sasso quindi noi che nasciamo e moriamo siamo dei fenomeni passeggeri perché lui è lì e guarda il fatto che ci siano le variazioni del livello del mare che lui adesso è sotto il mare insieme ai pesci e poi viene sollevato tettonicamente per emergere per lui va bene passano i millenni le ere geologiche lui racconta di quando giocava con le trilobiti cioè è fantastico ok e racconta in seconda persona a un personaggio a cui fa succedere delle cose e tutto il racconto è in seconda perché gli spiega quello che ha vissuto ma quello che in realtà stava succedendo e che la persona che viveva non poteva sapere perché era tutto il piano architettato da questo dio sasso che insieme ad altri dei vedeva gente faceva cose quindi il perché io ti sto raccontando io narratore ti sto raccontando una cosa a te che l'hai vissuta ha senso perché ti sto facendo vedere il dietro le quinte il perché di quello che è successo ed è gestito bene e non è pesante però i racconti e i libri in seconda hanno questo problema di trovare il perché io ti debba raccontare una cosa che tu hai vissuto cioè se l'hai vissuta ok hai perso la memoria alla fine i trucchi gli artifici letterari finiscono ad essere sempre quelli quindi stavolta c'è riuscita è veramente il punto di vista di un minerale che ha per amico un meteorite ma siete fantastici l'amore avversato dalle stelle letteralmente è fantastico e le altre divinità vabbè no loro sono sono fatte di altre cose ma io sono un sasso e non me ne frega niente poi ovviamente voglio rinascere sasso poi gliene frega però lui è un sasso ok meraviglia fantastico l'ultima opzione è la terza persona che è più difficile cioè da un lato è più difficile anche se la maggior parte di libri di xanofiction sono scritti con questo stile perché la terza persona crea più distacco quindi diciamo lì va fatto un lavoro molto fino per quanto riguarda l'immedesimazione del lettore in un punto di vista che già è alieno perché è quello di un animale lui normalmente non gioca ad essere una volpe un cavallo eccetera ma poi appunto è in terza persona quindi c'è un distacco ulteriore un distacco appunto emotivo quindi volendo riassumere i passaggi chiave per scrivere xanofiction allora scelta la nostra specie protagonista bisogna prima di tutto documentarsi su come vive e quali sono i suoi sensi più importanti quindi l'ecologia e la fisiologia dell'animale a questo punto poi si ricostruisce l'anvelt quindi il suo paesaggio sensoriale in base appunto ai sensi di cui abbiamo detto prima e da questo poi si fa la piramide dei bisogni come ha descritto Francesca e dopodiché si può passare gli step più narratologici che sono la costruzione del personaggio e la progettazione della trama il personaggio poi può essere più o meno antropomorfo a seconda dell'effetto che si vuole ricercare per esempio Black Beauty il cavallo è più antropomorfo perché vuole essere una narrazione più facile da comprendere soprattutto per le persone che lavorano con i cavalli questo era l'intento di Anna Sewell anche nella collina dei conigli c'è un po' di antropomorfismo però si sente sempre che sta parlando un animale non è mai un umano travestito da animale gli umani travestiti da animali sono più frequenti nei libri per bambini quando trovate le storie per bambini va bene sono animali che usano i vestiti sono animali che vivono in case con i mobili e non hanno le tane così e hanno relazioni sono generalmente famiglie con mamma e papà non hanno arem non hanno cose che possano urbare la sensibilità esatto se scrivete per adulti tenete conto che certe cose sono sono diverse e vanno vanno gestite insomma in modo un pochino più adulto ecco sì con questo siamo arrivati alla fine del nostro terzo incontro abbiamo visto quindi quali libri hanno segnato la nascita e l'evoluzione della xenofiction abbiamo visto come sono i sensi degli animali sia quelli che noi condividiamo con loro sia quelli che gli animali hanno e di cui noi non abbiamo la possibilità di fare esperienza e poi abbiamo visto come introdurre tutto questo materiale in una storia vi lasciamo con il consiglio di venite a leggere le cose che abbiamo già scritto ma soprattutto scrivete le vostre noi vogliamo leggere le vostre storie io voglio leggere assolutamente qualcosa con l'elettorecezione perché penso nessuno ci abbia mai pensato ma secondo me sarebbe fighissimo quindi se qualcuno vuole fare un racconto dal punto di vista di un'anguilla elettrica me lo scriva che voglio leggerlo sì perché noi abbiamo i supereroi che lanciano i fulmini ma non è la stessa cosa cioè puoi ricevere informazioni dal mondo ed è ed è una bellissima ginnastica mentale quindi provateci magari i primi racconti fate qualcosa di molto simile agli umani e allontanatevi man mano e quando arrivate a scrivere sui funghi ditemelo perché i funghi fanno cose fantastiche hanno otto sessi si connettono e si fondano tra loro non chiamiamoli sessi perché poi ci cazzano però insomma hanno otto generi stili di compatibilità insomma poi dipende dalle specie dal gruppo da tutto allarghiamoci e sperimentiamo andiamo in esplorazione di questi mondi e riportiamoli sulla carta e raccontiamo queste esperienze in modo da da vivere di più da ampliarci connetterci esplorare conoscere o divertirsi soprattutto come sempre se avete delle domande scrivetecelene nei commenti e noi vi rispondiamo e con questo direi che abbiamo finito a proposito spero abbiate comprato il libro di Francesca perché io lo sto ancora aspettando e spero mi arrivi presto dovrebbe arrivare in libreria a metà giugno per tutti quelli che l'hanno avuto in prevendita ci dovrebbe essere stato anche questo non so se dirtelo ma forse troverai un piccolo regalo all'interno della confezione insegna libro oh yes se si l'avevano detto l'avevano già detto e altrimenti ordinatelo e vi arriverà a casa quindi a presto e alle prossime buona scrittura buona scrittura ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.